Una proiezione troppo ottimistica? Forse, ma come sottolinea l'Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni italiane, basata esclusivamente sui modelli statistici, analizzando l'andamento dei nuovi casi nel tempo e tenendo conto dei provvedimenti di lockdown. Secondo lo studio, coordinato dal professor Walter Ricciardi, la fine dell'emergenza Covid-19 in Italia potrebbe avere tempistiche diverse nelle regioni, a seconda dell'esposizione all'epidemia. In Lombardia e Marche, dove il trend di diminuzione è particolarmente lento, l'assenza di nuovi casi si potrà verificare non prima della fine di giugno, mentre la Sicilia potrebbe essere la quinta regione a registrare l'azzeramento dei contagi, il 30 aprile, dopo Umbria, Basilicata, Molise e Sardegna. Nel resto del sud Italia il tanto atteso contagio zero potrebbe avvenire tra fine aprile e inizio maggio. L'analisi, che si basa sui dati messi a disposizione quotidianamente dalla Protezione Civile, ha l'obiettivo di individuare non la data esatta, ma la data prima della quale è poco verosimile attendersi l'azzeramento dei nuovi contagi. I modelli statistici non sono di tipo epidemiologico, ma tengono conto dell'andamento dei nuovi casi nel tempo e dei provvedimenti di lockdown introdotti dai DPCM. Pertanto, un alleggerimento delle misure, con riaperture delle attività e della circolazione di persone, così come un erroneo conteggio dei positivi, renderebbero le proiezioni non più verosimili. L'analisi evidenzia che l'epidemia si sta riducendo con estrema lentezza, pertanto i dati suggeriscono un passaggio graduale alla cosiddetta fase 2, con tempi diversi per ogni regione. Un'eccessiva anticipazione della fine del lockdown, con molta probabilità, potrebbe riportare indietro le lancette della pandemia e vanificare gli sforzi e i sacrifici finora effettuati.